Da una parte Mario Draghi e il suo governo, che lavorano tanto e fanno le cose in modo responsabile. Dall'altra i partiti, che non capiscono la gravità della situazione e giocano con la pancia degli elettori, combinando guai e rallentando il paese. Una contrapposizione netta, insomma, è questa, ormai. La narrazione diffusa dentro l'esecutivo. Renato Brunetta lo ha detto senza giri di parole lo scorso fine settimana collegandosi ad un convegno organizzato da Magna Carta, la fondazione di Gaetano Quagliariello. Il ministro per la pubblica amministrazione ha parlato di «una sorta di separatezza tra l'azione di governo, che è forte, coesa, netta ed efficiente, e la rappresentazione che ne danno gli stessi partiti di governo». Questi ultimi sono preda della «sindrome», che li induce a piantare le loro bandierine, ancora, legati all'ideologia, a volere ogni volta qualcosa di più. Tante polemiche e tanti liche però, poi, alla fine, urne vuote. Anche se indossa la maglia azzurra dei berlusconiani, Brunetta è vicino a Draghi, ciò che lui ha dichiarato in pubblico, la gran parte dei ministri inclusi quelli politici lo sostiene in privato. Il presidente del Consiglio tace. Sisa, però, che ha preso male l'altissimo numero di emendamenti alla manovra presentati dai partiti. Sperava che farli decidere sull'uso degli 8 miliardi di euro destinati al taglio delle tasse li avrebbe accontentati. La quadra tra i partiti della maggioranza è stata raggiunta, ma il governo si è trovato comunque davanti a 6.290 proposte di modifica, in grandissima parte sottoscritte dalle forze che lo sostengono. Ancora meno Draghi gradisce la richiesta che ormai gli giunge da tutti i partiti, di far sapere se intenda candidarsi o no alla successione di Sergio Mattarella, sottinteso, altrimenti ci mettiamo d'accordo su un altro nome.